Buon giovedì 14 dicembre, Giovanni il Battista, l'uomo che parla con schiettezza, che sferza i farisei, che grida dal deserto e invita a raddrizzare le vie del Signore, colui che è grande, ma allo stesso tempo è ben poca cosa rispetto al piccolo che abita nel Regno dei Cieli, una espressione difficile da capire. Giovanni il Battista per la sua schiettezza sacrifica la sua vita, prepara la via del Signore, annuncia il veniente, dichiara la sua piccolezza. Ecco, questo ci porta a vivere il tempo dell'Avvento con una prospettiva di verità che accogliamo in noi e che ci dà la forza e il coraggio di parlare con espressioni di verità, di sferzare la mondanità e le sue pretese egemoniche. Siamo di fronte all'annuncio del Regno dei Cieli, che è radicalmente antitetico rispetto al Regno della mondanità. Ma vediamo il Vangelo di oggi, il Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse alle folle, in verità io vi dico, fra i nati da donna, non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista. Qui Gesù sottolinea la grandezza di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel Regno dei Cieli è più grande di lui. Vedete? Gesù esprime il riconoscimento della grandezza di Giovanni, allo stesso tempo ci introduce nella semplice umiltà che incontriamo nel Regno dei Cieli, perché nonostante quella grandezza nel Regno dei Cieli il più piccolo è più grande di lui. Qui c'è l'essenza dell'antitesi rispetto al Regno della mondanità. Giovanni il Battista parla con schiettezza e con verità, sferza i farisei e gli ipocriti di ogni tempo. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora il Regno dei Cieli subisce violenze e i violenti se ne impadroniscono, sì. Ieri, come accade oggi, i violenti cercano di impadronirsi e qualche volta si impadroniscono del Regno dei Cieli. Abbiamo bisogno di trovare il coraggio di parole di verità, accogliendo allo stesso tempo l'invito alla umiltà e all'amitezza che Gesù ci dona con la sua testimonianza di cammino lungo le strade della salvezza. Tutti i profeti e la legge infatti hanno profetato fino a Giovanni e, se volete comprendere, è lui, quell'Elia, che deve venire. Chi ha orecchi ascolti. Questo invito all'ascolto, all'ascolto della profezia che annuncia il veniente. In questo tempo, come in ogni tempo, noi continuiamo a percorrere le strade coraggiose e miti allo stesso tempo del Regno dei Cieli. E così si esprime Papa Francesco in occasione di un'omelia a Santa Marta il 15 dicembre del 2016. Questa è la grandezza di Giovanni, un grande, sottolinea Papa Francesco, eh sì, è un grande Giovanni, l'ultimo di quella schiera di credenti che è incominciata con Abramo. Abramo è l'inizio. Giovanni, il Battista, che annuncia di preparare le vie del Signore, è l'ultimo grande profeta. ce lo ricorda Gesù nel brano del Vangelo. È lui, quell'Elia, che deve venire. E qui Papa Francesco ci ricorda come è l'ultimo dei credenti di una storia iniziata con Abramo. Giovanni è quello che predica la conversione, quello che non usa mezze parole per condannare i superbi, quello che alla fine della vita si permette di dubitare. Tra il dubbio e il coraggio si esprime in pienezza l'esperienza esistenziale di Giovanni. E questo è un bel programma, ci ricorda Papa Francesco, un bel programma di vita, di vita cristiana. Predicava forte, diceva delle cose brutte ai farisei, ai dottori della legge, ai sacerdoti, ai potentati di ogni tempo. Non diceva loro, ma cari, comportatevi bene. No, non si limitava a dire questo. No, semplicemente diceva loro, razza di vipere. Espressione forte. Abbiamo noi il coraggio di dire questo, razza di vipere? Non lo so. Così semplicemente, razza di vipere. Non andava con sfumature. Perché si avvicinavano per controllare e per vedere, ma mai col cuore aperto. Questo facevano i farisei, i dottori della legge, i sacerdoti. Sempre di osservare, cogliere Gesù in qualche errore per poterlo eliminare. Questo fanno i farisei di ogni tempo. Non hanno il cuore aperto. Non sono disponibili a farsi convertire dalla parola che Gesù dona all'umanità, razza di vipere. Chiediamo a Giovanni la grazia del coraggio apostolico, di dire sempre le cose con verità. Dell'amore pastorale. Di questo abbiamo bisogno, di ricevere la gente col poco che può dare. E questo è il primo passo. Ricevere, essere accoglienti. Dio fa l'altro passo. A noi che dobbiamo preparare le vie del Signore, spetta quel passo di accoglienza, con coraggio e umiltà, che il grande Giovanni, che è il più piccolo nel regno dei Cedi, per questo è grande. Ci aiuti su questa strada, sulle tracce del Signore. Un invito che fa Papa Francesco, che è il più piccolo nel regno dei Cieli, per questo è grande, ci aiuti su questa strada, sulle tracce del Signore. Pensiamoci bene a questo invito che formula Papa Francesco relativamente alla figura di Giovanni nel tempo dell'Avvento. Buona giornata a tutti e a tutte.